Buongiorno, sono Laura Antichi, vi parlerò dell'evoluzione del concetto di cambiamento didattico. Il cambiamento è un sistema di riconoscimento non automatico dell'apprendimento nella sua evoluzione. La consapevolezza del cambiamento didattico come punto di ripartenza è sempre stata presente nell'educazione. Ha avuto un'accelerazione dagli anni sessanta in poi in rapporto ad un nuovo umanesimo con al centro l'individuo che apprende con diverse attitudini e passioni, il docente progettista, la scuola con i suoi organi collegiali. La didattica è una riflessione teorica, pedagogia, una pratica investigativa, un agire ed è soggetta a modificare le proprie strategie. La didattica presuppone padronanza dei contenuti disciplinari, esperienza condivisa di metodologie, studio sui processi di apprendimento e insegnamento, conoscenza di motivazioni, aspettative e emozioni in gioco, inclusione di tutti gli studenti nelle loro diverse attitudini e di tutti gli attori del processo formativo, di abbracciare il proprio tempo con i problemi e le risorse, di collocarsi come situata. La didattica come situata considera i diversi contesti di riferimento che sono sociali, economici, sanitari, politici, di cittadinanza, tecnologici, ideologici. Le forme odierne della didattica situata sono didattica in classe, didattica online, didattica ibrida. La didattica situata odierna ha acquisito e sedimentato convincimenti di essere individualizzata ed inclusiva, di far riferimento alle competenze, di usare strumenti tecnologici e media, di basarsi sul problem solving, di sviluppare comunicazione, collaborazione, come bene comune, di governare un universo complesso. La didattica situata è viva, dinamica, coinvolta da fenomeni ed eventi. Non sempre ha voluto rispondere con adeguata ricerca e sperimentazioni di pratiche, se non sollecitata dall'impatto con problemi urgenti che si sono presentati in una costellazione multiforme e minacciosa. Problemi urgenti, salute, sicurezza, equità, formazione dell'individuo e del cittadino, cura di interessi ed emozioni, apprendimento efficace e imprenditoriale, comunicazione collaborativa e collaborazione generativa.